Caldo a fosso in tutta la regione nel primo fine settimana dell'estate, rischi come sempre per bambini e persone anziane, temperature oltre i 30 gradi. A Monte Falcone inizia la nuova amministrazione locale guidata dal neoprimo cittadino Riccardo Vincifori, la giunta punterà su zootecnie e turismo rurale. I promessi sposi nella versione rivisitata, cantata e musicata da Nicolino Cannarsa nel primo appuntamento estivo al Teatro Fulvio di Guglionesi. Parte domani la settima avventura dell'Educamp, vacanze e giochi all'aria aperta sul litorale di Campomarino, una proposta ludica promossa da Alconi. Ben trovati gentili telespettatori, il Molise è stato inserito fra le realtà più assolate della penisola in questo fine settimana. Dovunque temperature che superano i 30 gradi, attenzione alle scottature al mare e alla disidratazione idrica. I reggi solari durante l'arco della giornata hanno una diversa incidenza sul corpo, anche il momento in cui ci si espone all'elioterapia ha la sua importanza. Spesso però la sudata tintarella riserva colpi gobbi che possono mettere in serio pericolo la vita umana. Infatti quando ci esponiamo al sole, oltre alla produzione di melanina che è l'artefice della bronzatura, il corpo umano va incontro dal momento della temperatura. Sembra un fatto scontato ma non lo è perché non ci accorgiamo di cosa accade a questa macchina perfetta che è il nostro organismo. Per evitare che la temperatura corporea salga troppo, l'organismo con la sudorazione raffredda la pelle. La sudorazione però determina anche la perdita dei sali, quali quelli di potassio e di sodio. Questo fenomeno a lungo andare è causa di aritmie cardiache e di indebolimento muscolare. La sodiumia e potassiemia devono sempre stare nei valori della norma, diversamente si hanno serie complicanze. Il colpo di calore invece si concretizza nel momento in cui l'organismo non è capace di raffreddare la pelle con il sistema elementare appena descritto. In questo caso si arriva alla perdita della coscienza e al collasso cardiocircolatorio. Quando si realizza questa evenienza bisogna bagnare la testa del paziente e porlo all'ombra al riparo dai raggi solari. Nella ipopotassiemia bisogna aggiungere con la dieta i sali mancanti. Bollino rosso indicato dal Ministero della Salute per questo primo fine settimana d'estate per fronteggiare le temperature affose. Secondo le indicazioni degli esperti occorre evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Inoltre l'alimentazione deve essere leggera, indispensabile bere molti liquidi. Ed adesso passiamo alla cronaca. Foglio di via obbligatorio emesso dalla divisione di polizia anticrimine di Campobasso nei confronti di un pregiudicato campano fermato nella periferia del capoluogo mentre tentava di vendere senza alcuna autorizzazione oggetti di uso domestico. Sul fronte repressivo la squadra mobile di via Tiberio ha condotto in carcere un cinquantenne del posto in seguito alla revoca dei benefici alternativi agli arresti domiciliari. Controlli a tappeto sono stati seguiti nella notte dagli agenti di polizia nei locali del centro storico di Isernia per accertare la regolarità delle licenze e il rispetto delle ordinanze comunali. Tre attività sono risultate sprovviste dell'autorizzazione e l'occupazione del suolo pubblico. Inoltre sono stati svolti numerosi posti di controllo da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza anche con l'utilizzo dell'etilometro, 29 le sanzioni per violazioni al codice della strada. E proseguono le indagini dei carabinieri sulla rapina a mano armata avvenuta nella farmacia Nuova Cliternia di Campomarino. Due banditti a volto scoperto hanno minacciato la figlia del titolare, si sono fatti consegnare 300 euro in contanti. L'episodio di cronaca è avvenuto nella serata di ieri. Arginare il fenomeno della crescente proliferazione di cinghiali, l'unico rimedio, resta per molti la caccia individuale. Migliorare e riformare il mondo venatorio molisano con la speranza di contenere e riportare in equilibrio la problematica popolazione dei cinghiali, cresciuta a dismisura negli ultimi anni. La caccia individuale resta l'unica strada per arginare il fenomeno. Di questo ne è convinto il consigliere delegato al ramo Cristiano Di Pietro, che esprime soddisfazione dopo la decisione dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, il quale ha ufficialmente autorizzato in Molise e i corsi per il prelievo selettivo degli ungulati. Parere favorevole sulle modalità di svolgimento e sugli argomenti che saranno trattati nei rispettivi moduli. In merito al programma del corso, precise il consigliere delegato alla caccia Di Pietro, l'ISPRA ha ritenuto il percorso didattico proposto dagli ambiti territoriali di caccia coerente con le indicazioni precedentemente fornite dallo stesso Istituto, nonché fedele a quanto disposto dal documento Lini e guida per la gestione degli ungulati. Con il via libera dell'ISPRA dunque la giunta regionale del Molise a breve delibererà per l'attuazione e i corsi per se le cacciatori potranno finalmente iniziare. Martedì 27 i dipendenti della società Copter, che gestisce un appalto di servizi a favore dello stabilimento ITT di Termoli, ci opereranno con l'appoggio del sindacato Will. L'azione di protesta consegue alla parziale risoluzione di molteplici problematiche che affliggono da mesi i lavoratori. Le criticità riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, l'organizzazione delle attività della cooperativa, la fornitura di divise materiali, i ritardi nelle retribuzioni e il mancato rispetto degli impegni assunti con i lavoratori. Ancora per la pagina sindacale, le organizzazioni sociali vogliono presto arrivare con il Ministero dello Sviluppo Economico ad un accordo in grado di ristrutturare l'incubatorio e il macello dell'industria vicola GAM di Boiano. Con i dirigenti di Agricola Vicentina, le forze sindacali hanno chiesto le possibili soluzioni per il reinserimento progressivo delle maestranze e la proroga della cassa integrazione. Oggi a Montefalcone nel Sannio è il primo consiglio comunale guidato dal neo sindaco Riccardo Vincifori. Nel programma presentato ai cittadini fa ripuntati sulla valorizzazione della zootecnia, turismo rurale, prodotti oleari e l'allevamento della capra locale. Vediamo. Montefalcone è fondamentalmente di economia agricola e nell'agricoltura ci sono delle cose importanti da poter fare su due settori. Nella zootecnia e in maniera particolare nell'allevamento della capra. Montefalcone è noto, ha una linea di sangue della capra molto importante, infatti l'Università del Molise, credo qualche anno fa, fece uno studio specifico sulla capra di Montefalcone e ne ha fatto una razza autottona molto particolare, è l'olio d'oliva. In più io aggiungerei anche qualcosa legato al turismo insieme all'agricoltura. Turismo rurale, bed and breakfast rurali, quindi la capacità poi all'interno di questo ragionamento, sempre nell'agricoltura, cercare di recuperare quegli edifici, quelle attività che possono essere sviluppate con l'agricoltura e il turismo. Abbiamo anche delle emergenze naturali molto interessanti che sono il lago e la montagna, è lì che poi noi ci concentreremo. C'è una questione, io durante la campagna elettorale e nel mio comizio finale non ho dato il solito elenco di opere da fare, si fa la palestra, si fa quello, si fa quella, no. Quelli sono libri dei sogni, io li chiamo. In una situazione di economia molto precaria, di finanziamenti che stentono ad arrivare ed è difficile da fare, il programma è in itinere, noi lo dobbiamo concordare con la popolazione in base alle loro esigenze e lì si cominceremo a studiare, vedere un attimino come poter fare, quindi è un programma in itinere. Il Molise ha raggiunto e superato la quota del 35% di produzione di energia da fonti rinnovabili, non ha quindi necessità di autoattribuirsi quote superiori senza nuove direttive europee, prevedere di innalzare al 45% oltre la produzione di energia attraverso centinaia di torre eoliche rischia di compromettere l'ecosistema e l'equilibrio tra natura e territorio. La rete dei comitati di tutela ambientale ci ricorda che il Molise ha una vocazione agricola, turistica e culturale che rischia però di venire sacrificata a vantaggio delle multinazionali e a danno dei coltivatori. L'imprenditore Massimiliano Del Busso è il nuovo presidente dell'EDIL Cassa regionale, la nomina è avvenuta in seno al consiglio direttivo dell'associazione costruttori edili del Molise. A partire da settembre il paese di Rionero San Nitico riavrà la sua scuola per ospitare gli alunni dell'infanzia primaria e media inferiori. Con l'apertura del nuovo istituto è stata superata l'emergenza, determinata dal terremoto, dalle problematiche legate alla vulnerabilità sismica. Cambiamo ancora argomento, musica, arte, teatro e movimento sono i metodi innovativi e complementari per aiutare le persone anziane nei casi di malattie senili. Un seminario di approfondimento si è svolto a Monte Roduni. Giornata dedicata allo studio e all'approfondimento delle arti terapie al centro polifunzionale Temenos di Monte Roduni. Durante il seminario, nato dalla voglia di iniziare un percorso formativo in Molise, si è parlato infatti di tutte quelle terapie non farmacologiche complementari in campo sociosanitario. A prendere parte all'iniziativa Rossella Chiarullo, responsabile del centro di urno, la quale ha spiegato l'importanza di questi metodi innovativi, in quanto il paziente subisce un trattamento emotivo che ne rallenta il disagio. Noi vogliamo fare cultura, quindi entrare sul territorio e far conoscere non solo la demenza e quindi l'Alzheimer, ma tutti quei trattamenti che possono aiutare le persone a stare bene, ad avere una buona qualità della vita anche se affette da patologie. In particolare parliamo di una conoscenza di che cos'è il centro di urno, quali sono le attività che si fanno in un centro di urno e quando intervenire. In genere si pensa alle strutture, quindi a un centro di urno, quando la patologia è già conclamata, quindi in uno stadio moderato grave. Invece prendere all'inizio la patologia e quindi il disagio significa comunque andare a rallentare ed è qui che il centro di urno, il centro temenos vuole posizionarsi. Le abilità cognitive si sono deteriorate, le emozioni no, le emozioni sono intatte, quindi attenzione alla relazione, a quello che si dice, parole e frasi semplici e tanto affetto. Il mediatore artistic utilizza una serie di tecniche che vanno a sviluppare la creatività del malato, tra queste la musicoterapia. Ad occuparsene la docente di musica Anna Damiani, specializzata appunto nelle arti terapie. Queste terapie complementari, ha detto la Damiani, sono fondamentali per il paziente, poiché garantiscono un miglioramento della vita. E restiamo in provincia di Isernia, a Bagnoli del Trigno, domani undicesima edizione della passeggiata alla scoperta delle piante officinali, iniziativa nata per conoscere la natura, apprezzare la biodiversità, in un itinerario che coniuga storia, territorio e ambiente per il Plantatour 2017. La partenza è prevista alle 7.30. Questa sera a Macchiagodena, all'inaugurazione del Castello Longobardo, della sede nazionale dei Borghi della Lettura, il maniero sarà punto di riferimento per il circuito turistico che unisce oltre 30 paesi di 7 regioni italiane. Sono previsti oggi i contributi dei giornalisti e referenti dei Borghi della Lettura, Davide Vitiello e Roberto Colella. Al Teatro Fulvio di Guglionesi, questa sera e domani sera sul palco, i Promessi Sposi, commedia musicale rivisitata da Nicolino Cannarsa. 40 agli attori dello spettacolo, che sarà riproposto in estate in altre località della regione. Ritornare ai fasti di tanti anni fa, per te è stato un salto indietro nel tempo, ritornare giovani, ma questo non è mai stato un problema perché tu comunque sei giovane dentro. Grazie. Beh, è stato comunque sempre una cosa emozionante riprendere quel copione fatto quasi 50 anni fa, no, 50 anni fa con esattezza. Rimodellarlo in base alle nuove canzoni, quindi di rivisitarlo ed integrarlo anche con balletti, con sketch nuovi, anche perché, ripeto, prima eravamo una ventina di persone a fare questo spettacolo, adesso ne siamo quasi 40, con l'orchestra che suona dal vivo, con le scenografie fatte per bene dell'epoca, con gli abiti dell'epoca fatte dalle sartorie a Benaduce. Insomma, è un salto nel tempo indietro, ma comunque guardo con propositività quello che faremo, anche se c'è quest'ansia da parte di tutti quanti i personaggi che non sono, cioè gli interpreti, che non sono gente che è abituata al palco e quindi al teatro. Però c'è tanto di quell'entusiasmo che nel momento in cui saliranno sul palco e avranno i riflettori e avranno il pubblico che li starà ad ascoltare e ad apprezzare, perché è stato un lavoro veramente fatto nel tempo, quasi due anni di prove e i risultati si vedranno. Alle ore 21 di oggi a Santa Croce di Magliano lo spettacolo teatrale social comedy, la prima commedia scritta in Italia sul tema della protezione dei rifugiati, una rappresentazione inserita nel progetto di accoglienza migranti dello Sprar Casa d'Amico di Santa Croce. Domani pomeriggio a Castello Svevo di Termoli, l'artista Freddy Luciani inaugura la mostra personale Atmosfere nell'infinito azzurro della costa molisana. Sarà il critico d'arte Tony Narducci a illustrare le opere del maestro. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno. Da lunedì 26 al 31 agosto all'ex Omni di Campobasso, il Campus Summer Camp 2017, organizzato dal comune, capoluogo e destinato a 50 ragazzi dai 5 ai 13 anni. Giunge alla settima edizione il Campus Summer Camp Comuni Divertenti 2017, voluto ed organizzato dal comune di Campobasso e rivolto a 50 ragazzi di età compresa tra i 5 ai 13 anni residenti nei competenti comuni dell'ambito territoriale sociale. Una attenzione particolare per i soggetti diversamente abili, la cui frequenza sarà garantita grazie all'affiancamento del personale addetto all'assistenza dei disabili, dei volontari del servizio civile del progetto Arancio Molise e da quest'anno da un operatore socioassistenziale che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei soggetti in stato di necessità, prestando aiuto e appunto assistenza e favorendo il massimo grado di autonomia personale. Le attività dal 26 giugno e fino al 31 agosto si svolgeranno all'ex Omni di via Muricchio a Campobasso dalle 8.30 alle 13.30 con una interruzione nella settimana del ferragosto. Sono previste alcune giornate in piscina e alcune escursioni a Monte di Mezzo, alla Morgia dei Briganti di Salcito, alle Cascate del Verde di Borrello in provincia di Chieti e a Pietracupa. Tutte le istanze di partecipazione devono essere redatte allo sportello del settore servizi sociali, all'ufficio relazioni con il pubblico, al sito internet del comune e in tutti gli altri 25 comuni dell'ambito territoriale e sociale numero 1. Secondo giorno in onore di San Amanzio a Yelsey, pizza ripiena della tradizione culinaria locale per la sera e alle 22 il concerto della Med Free Orchestra, una band multietnica creata a Roma nel 2010 che esprime le varie anime musicali della cultura mediterranea. Domani pomeriggio invece a Pietracatella si svolgerà la cerimonia conclusiva del terzo premio letterario nazionale dedicato al cantautore genovese Fabrizio De Andrè, premio organizzato dall'Associazione Croezza De Ma con il patrocinio della Fondazione De Andrè. 128 gli elaborati giunti in Molise dalle diverse regioni dello stivale, contesti in prosa e in versi. Ed adesso siamo come ogni giorno alle previsioni del tempo. Sole e caldo sul Molise, deboli annuvolamenti nelle zone interne fino a sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 23 gradi di Campobasso e la massima di 34 a Disernia. Ventilazione sud-occidentale poco mosso e il medio triatico. Sulla regione domattina tornerà il sereno, valori climatici stazionari, venti di direzione variabile. Al palazzetto dello sport dell'Università Campobasso, l'Italia femminile under 17 di calcio a 5 ha superato nella seconda giornata del quadrangolare internazionale la Romania 5 a 3 al termine di una gara equilibrata e dalle buone trame tecniche in campo. Nell'altra partita la Russia ha travolto il Kazakistan 7 a 0. Domani, ultima giornata del torneo, Kazakistan-Romania alle ore 10 e a seguire alle 12 la nazionale di Menichelli affronterà la Russia. Il Comune di Campobasso ha sottoscritto il contratto di aggiudicazione dei lavori per la manutenzione e adeguamento dello stadio di calcio di Contrada Selvapiana. Le opere partiranno entro la prima metà di agosto. I lavori, finanziati dalla regione Molise per circa 600 mila euro, consentiranno di mettere in sicurezza l'impianto sportivo con la capienza che sarà portata a 7.500 spettatori. Saranno pure ripristinati i proiettori alle quattro torri per consentire l'utilizzazione dei fari per le partite e gli eventi in notturna. Cambiamo argomento, tutto pronto a Campomarino Lido per la nuova stagione EduCamp a partire da domani per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, proposte ludiche e divertimento sotto il sole. Per il settimo anno consecutivo il CONI propone sul litorale adriatico un campus estivo a partire da domenica fino all'8 luglio, due settimane di appuntamenti sportivi dedicati alla fascia d'età delle scuole primarie e medie con l'obiettivo di diffondere le attività ludiche e motori attraverso la pratica di discipline come il calcio, la palla canestro, la palla a volo, l'atletica, il nuoto, il karate ma anche il tiro con l'arco e la danza sportiva. A seguire ragazzi come sempre collaudati istruttori provenienti dalla facoltà universitaria di scienze motorie e un gruppo di animatori pronti a lanciare la sfida negli eventi serali e di divertimento. Il progetto EduCamp quest'anno toccherà nuovamente il villaggio Vacanze Hotel Acquario e la Loa Park a Lido di Campomarino. I partecipanti al campus estivo CONI 2017 saranno 50 a settimana. Divertimento e aggregazione sono assicurati come anche le proposte di crescita motoria fondamentali per il successo dei giovani del domani senza l'assillo della competizione agonistica a tutti i costi. Oggi e domani nella villa comunale a Vinchiaturo si terrà una manifestazione sportiva multidisciplinare che vedrà la presenza di numerosi atleti concorrere al primo Nakayama Fitness Day, ginnastica dolce, danza sportiva, balli di gruppo, arti marziali oltre a dibattiti sull'importanza del movimento a tutte le età e della corretta alimentazione. Chiudiamo ancora in questo fine settimana si svolgerà sulle strade del Molinse centrale il dodicesimo raduno nazionale delle auto Fiat 500. Nella mattinata di domani ci sarà a Campobasso il ritrovo e l'esposizione dei veicoli storici lungo corso Vittorio Emanuele. Alle ore 11 il percorso itinerante e l'arrivo a Baranello con visita al locale museo. La manifestazione sportiva è promossa dal club 500 del Capoluogo. E con questa notizia è veramente tutto. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana.